buongiorno gente ben ritrovati sul canale questa mattina andiamo a santa maria capovetere a riprendere i modelli del gruppo modelli siretivi perché ha partecipato alla venticinquesima mostra di modellismo statico appunto di santa maria capovetere ci aspetta un viaggio di più o meno di quattro ore ce la prendiamo con calma faremo farò da solo questa volta solo da solo farò una pausa per un caffè e niente se volete vedere i modelli dovete vedere video quindi a presto ragazzi a presto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.